Vediamo se sapete rispondere a questa domanda. Ai tempi di Gesù, chi erano quelli che comandavano su tutto il territorio dove Gesù abitava, camminava e viaggiava. Erano gli spagnoli, gli americani, i tedeschi, i giapponesi o i romani? I romani erano. Il Giappone a quel tempo non se ne parlava neanche. L'America ancora non l'avevano scoperto. La Spagna era un territorio lontano ed era pure essa dominata dai romani. Quindi erano i romani. Comandavano su tutto e su tutti. E per comandare di che cosa si servivano, che tipo di uomini avevano. Lo Stato italiano per comandare sulla Sicilia di quali persone si serve. Alcuni ve li dico io, vediamo se altri li sapete dire voi. I prefetti, i sindaci, e poi quelli che portano alla divisa come si chiamano? La polizia, beh, la polizia. Quelli simili alla polizia che camminano pure loro, i carabinieri, i finanzieri, queste sono persone che comandano e fanno eseguire tutto quello che lo Stato impone. E allora, mentre gli altri Stati ci sono altri che comandano, in Italia invece comanda Roma, come ai tempi di Gesù. La differenza sta in questo, che ai tempi di Gesù Roma comandava su tante, 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 tanti paesi. Sulla Spagna, sulla Francia, sull'Austria, sulla Macedonia, sulla Grecia, sulla Palestina, sull'Egitto, sulla Libia, sul Portogallo, sul Belgio, sull'Inghilterra, sulla Svizzera, su Mezzagermania, sulla Turchia, sull'Ira, che fu Roma era potente. e comandava non con i finanzieri, che ancora non c'erano, e neanche con i carabinieri, che ancora non c'erano, e neanche con i poliziotti, che ancora non c'erano. Chi erano le forze armate che comandavano sui territori che Roma dominava? Chi erano? Vi dico tre cose e voi mi dite qual è quella giusta. Erano i ladri, i briganti o i soldati? I soldati! I ladri, poi chiamavano mai essere i ladri, come andavano? I briganti, poi il peggio di peggio. I soldati erano. I soldati di allora erano contemporaneamente poliziotti. carabinieri, finanzieri, guardie penitenziarie, facevano tutto, tutto. E l'esercito romano era composto di decine e decine di legioni. una legione era composta da 6.000, 7.000, qualche volta 8.000 soldati. Una legione. in Palestina e in Siria c'era, c'erano due legioni. Quindi c'erano circa 10.000, 12.000 soldati. e poi negli altri territori, altri soldati. Ogni legione era comandata da uno generale che si chiamava Duce. Poi ogni legione era divisa in tanti scomparti che erano comandati dai tribuni, così li chiamavano. E poi c'erano dei comandanti di un gruppo di soldati che si chiamavano centurioni. Secondo voi i centurioni quanti soldati comandavano? Bravissimi, 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 c'erite. Certo. E poi sotto i centurioni c'erano pure dei comandanti più piccoli ma avevano pure il loro potere che si chiamavano decurioni. I decurioni secondo voi quanti soldati comandavano? Bravi, dieci, oh. Quello di cui oggi parla il Vangelo era un centurione comandava cento soldati. Poverino aveva un problema serio. Si era ammalato uno dei suoi serfi. A quel tempo quando una persona era importante i centurioni erano persone importanti. Erano più importanti di quanto può essere importante un maresciallo in un paese. Avevano naturalmente i loro serfi. Uno di questi si ammalò. Si vede che il centurione c'era molto affezionato. Quando si ammalò si vede che non era una malattia piccola piccola tipo un'influenza una malattia grave. E allora poverino che cosa fece il centurione? Aveva lui non è che era ebreo e credeva nel Dio degli ebrei. Vediamo se qualcuno di voi mi sa dire se gli ebrei e i romani avevano la stessa religione oppure una religione diversa. Diversa era diversa perché gli ebrei adoravano un solo Dio uguale a quello nostro. Gli ebrei adoravano un solo Dio. Invece i romani adoravano vediamo se mi sapete dire quanti dei sparate di più di più aveva da essere un centenaio no migliori no cento un centenaio supergiocento supergiocento silenzio ma se sempre voi avete paura la perdica ieri voi dovete rispondere voi dovete rispondere erano un centenaio di dei però attenzione c'erano alcuni romani che quando conoscevano degli ebrei si facevano un ragionamento e dicevano ma Dio se esiste uno solo può essere se esistono tanti dei uno l'altro l'altro chi comanda con tutti questi dei che esistono e si convincevano che Dio ce n'era uno solo anticamente le mamme ai loro bambini piccoli piccoli quando erano proprio piccoli che appena sapevano parlare gli chiedevano voi due però non dovete parlare tra di voi gli chiedevano quanto è un signorosso e i bambini rispondevano uno il signore è uno così dice la Bibbia il centurione si era lasciato convincere questo centurione che Dio ce n'è uno solo aveva sentito dire che Gesù era il figlio di Dio e che operava miracoli e guarigioni e disse ma se questo Gesù che dicono che è figlio di Dio e fa miracoli e guarigioni non glielo posso andare a dire che il mio servo è malato può darsi che viene e guarisce il mio servo e allora si mise in cammino lo trovò in mezzo alla strada che stava predicando e gli disse signore ho un servo che è molto malato lo guarisce e Gesù disse ora vengo a casa tua e lo guarisco secondo voi il centurione rispose a Gesù si viene a casa mia oppure no come gli disse si per per la cosa la cosa più più giusta sarebbe stato questo viene a casa mia intanto il centurione invece di dire si viene tutto contento gli disse non io non mi sento il cuore pulito la casa pulita per entrare tu a casa mia non sono degno ma siccome tu sei il signore e fai miracoli pure a distanza se tu stabilisci che il mio servo deve guarire pure te qua lo puoi guarire e Gesù rispose in maniera bella disse a quelli che lo ascoltavano vedete quest'uomo romano ha più fede di tutti voi perché ha capito che io sono il figlio di Dio e posso guarire pure a distanza perché il centurione gli aveva detto io sono un comandante comando tanti soldati se a un soldato dico vieni il soldato viene se a un soldato dico vai il soldato va e se al mio servo dico fai questo il mio servo lo fa così anche tu che sei comandante di cose più importanti se tu stabilisci che in questo momento il mio servo deve guarire il mio servo guarirà e Gesù guarì il servo a distanza quando poi il centurione tornò verso casa che c'erano un bel po' di chilometri di distanza gli vennero incontro quelli di casa sua e gli dissero sai il servo è guarito e il centurione domandò verso che ora è guarito ma è guarito ieri verso quest'ora il centurione capì che il servo guarì lo stesso momento in cui Gesù aveva detto va che il tuo servo guarisce per farvi capire quant'è importanza la potenza di Dio ora vi racconto un'altra cosa che è successa non ai tempi di Gesù ma ai tempi di oggi e io sono un testimone di questo fatto che è successo mi trovavo a Rimini qualcuno di voi sa dove è Rimini in quale regione d'Italia sa la geografia non la studiate ancora siete piccoli allora no è un po' più sopra di un silenzio silenzio io vi dico tre regioni d'Italia e voi vediamo se mi indovinate in quale regione è Rimini Rimini è in Umbria è in Toscana oppure nelle Marche Marche queste sono tre regioni d'Italia Umbria Toscana o Marche e nelle Marche Rimini silenzio e allora ero a Rimini eravamo niente meno alla fiera del Mediterraneo e stavamo facendo preghiere e c'era e c'era un un missionario che faceva preghiere di guarigione un missionario importante mentre si pregava 60.000 persone eravamo io ero là sentito con le mie orecchie tra le tante cose che disse quel missionario ne disse una che mi interessava perché era una persona che io conoscevo da Palermo è venuta qui una signora che ha lasciato suo figlio a 21 anni a casa e suo figlio è da un mese a letto gravissimo licenziato dai medici medici dicono che non può guarire ed è venuta angosciata per pregare per suo figlio il signore dice a questa nonna che in questo momento suo figlio guarisce quando tornate in albergo quelli di Palermo telefonate e verificate se effettivamente è guarito a quest'ora a quel tempo i telefonini non c'erano ancora sono passati molti anni perciò tutta la comitiva di Palermo eravamo una cinquantina avevamo premura di arrivare in albergo per fare la telefonata la signora la madre di quel ragazzo di 21 anni era con noi tutti appresso a lei telefono a casa da casa sentiamo per telefono noi stessi una voce è guarito è guarito però a che ora è guarito era la stessa ora precisa con cui il missionario aveva detto che era guarito dunque il problema è che in questo momento io non penso che era questo come si chiama è famoso lo stanno facendo adesso la causa per santificarlo quello che fa c'è un miracolo parliamo pure non ci penso uno del rinnovamento come se ci penso ecco si chiamava questo missionario è morto adesso da una ventina d'anni si chiamava padre Emiliano Tardif era un prete silenzio non conosceva neanche il rinnovamento una volta siccome si è ammalato grave venne a sua nipote con un gruppo di preghiera e pregarono su di lui e cominciarono a parlare in lingue a cantare in lingue il missionario guarì padre Emiliano e da quel momento si dedicò totalmente al servizio di guarigione ma quanti malati guarivano in quell'occasione di questa vicenda di Palermo figuratevi che guarirono di malattie gravi 90 persone attenzione tutti verificati con i medici visitati dei medici prima della preghiera e risultava la malattia e dopo la preghiera e risultò la guarigione allora concludendo bambini rispondete a questa domanda secondo voi i miracoli Gesù li faceva soltanto quando era sulla terra o li fa ancora al giorno d'oggi ancora al giorno d'oggi fa miracoli quindi dobbiamo pregare Gesù quando ci sono malati bisogna sì andare dei medici ma bisogna pregare il Signore noi facciamo la preghiera per i malati due volte alla settimana il giovedì mattina alle nove e mezzo e il venerdì pomeriggio alle nove e mezzo qui giovedì mattina e il venerdì pomeriggio alle quattro alla chiesa di Santa Croce perciò se capite che avete persone a voi cari che sono malati portateli fate portare così perché anche da noi avvengono guarigioni è vero Sandra? sì pure Sandra lo dice che avvengono pure come? come? gira qua e lo racconti tu avanti che caso ce le ha accese le casellaria allora non lo devi dire a Petralia è stata una cosa bella ecco preghiamo il Signore che il Signore lei lei ha le preghiere di tutti che c'è o lei ha citato un caso ma ne potremmo citare tanti altri perché il Signore continua a fare miracoli però dobbiamo fare fede avere fede frequentare la chiesa fare la comunione partecipare alle preghiere così il Signore il Signore e anche io